Allora stiamo iniziando questa bellissima avventura di The Band, sono qua per aiutare dei ragazzi che hanno una band da otto anni in ice cream a risalire i costi in classifica verso la vittoria. Non è facilissimo per loro perché potrebbero essere quelli che arrivano ultimi però piacciono alla gente perché effettivamente sono un pochino meno preparati a livello tecnico, hanno una carica bellissima, sono molto simpatici, sono pieni di personalità, ci divertiamo molto insieme devo dire, hanno anche un bel repertorio. Quindi insomma è una nuova avventura, mi ritrovo da diciamo dietro le quinte per una volta, essere io che sostengo qualcuno che va sul palco ed è molto emozionante, non me l'aspettavo perché veramente quando sono loro sul palco ho il batticuore come se dovessi salire io, mi preoccupo, hanno i buoni ascolti, hanno le spie, hanno i monitor, è tutto a posto, la chitarra mi raccomando, i pedalini, insomma mi sembra di essere diventata davvero un telonio della situazione e quindi è una bella esperienza, non pensavo davvero che fosse così avvincente, così piena di cuore ecco, quindi non vedo l'ora di presentarvi in ice cream e queste bellissime puntate che ci saranno in questo periodo a maggio in cui c'è questa piccola gara tra queste band non professioniste ma che si vogliono lanciare sul grande pubblico.